Benvenuti nel prestigioso mondo di Audemars Piguet. Gli orologi Audemars Piguet sono il simbolo dell'alta orologeria svizzera. Fondata nel 1875, l'azienda ha creato una collezione esclusiva di orologi di lusso, che rappresentano il massimo della precisione, della qualità e dell'eleganza. Gli orologi Audemars Piguet sono realizzati con materiali di altissima qualità, come l'oro rosa, l'acciaio inossidabile e il titanio, e sono dotati di movimenti meccanici automatici di precisione svizzera. Ogni orologio è un'opera d'arte unica, creata con cura e attenzione ai dettagli dai maestri orologiai dell'azienda. La collezione di orologi Audemars Piguet è caratterizzata da una grande varietà di modelli, che spaziano dallo stile classico e tradizionale a quello moderno e innovativo. La collezione Royal Oak, ad esempio, è stata disegnata nel 1972 da Gerald Jantà ed è considerata un'icona dell'orologeria moderna, con la sua cassa in acciaio, il quadrante decorato con il motivo Gran Tapisserie e la lunetta esagonale. Ma gli orologi Audemars Piguet non sono solo oggetti di lusso e di prestigio, sono anche un'esperienza emozionante. Indossare un orologio Audemars Piguet significa portare con sé una parte della storia dell'orologeria svizzera e della passione dei suoi artigiani per la perfezione. Oggi Audemars Piguet vanta duraturi rapporti con prestigiosi designer e rivenditori in tutto il mondo, come Cartier a Parigi e Tiffany a New York. Scegliere un orologio Audemars Piguet significa scegliere l'eccellenza e l'unicità e avere la garanzia di possedere un pezzo unico di alta orologeria. La bellezza, la precisione e l'eleganza degli orologi Audemars Piguet li rendono un vero e proprio tesoro da custodire per sempre.